Musica Buongiorno, ben ritrovati per il primo appuntamento con l'informazione su Fano TV, Occhio ai giornali che va in onda tutte le mattine puntualmente alle 7.30 qui sul canale 17, visibile in tutte le marche come sempre faremo un sorvolo sulle notizie principali di Corriere Adriatico e il resto della Carlino non prima però di aver visto l'almanaco del giorno, che cosa ci dice il calendario e poi le previsioni del tempo oggi è venerdì 5 aprile San Vincenzo Ferreri, il sole è sorto alle 6.42 e tramonterà alle 19.39 previsioni del tempo, vediamo qui grazie all'ausilio degli amici della protezione civile delle marche che cosa ci presenta la giornata di oggi, cielo irregolarmente nuvoloso, ampie schiarite nel corso della mattinata ma la prevalenza sarà al sereno, ci saranno residui rovesci nella prima parte però della mattinata fenomeni assenti nel pomeriggio, vedete però la zona interessata da questi residui e da questi piovaschi è la fascia costiera a sud delle marche e l'interno appenninico poi per sabato la tendenza è al bello quindi sereno, poco nuvoloso aumento delle stratificazioni medio-alte nel pomeriggio quindi ci sarà un po' di nuvolosità però non sulla costa, vedete il nostro settore è sole pieno, nessuna precipitazione anche le temperature sono in aumento nei valori massimi però domenica ahimè cambia radicalmente, c'è un ingresso di aria fredda quindi arriva una nuvolosità più intensa e stratificata anche su tutta la regione, riappaiono le precipitazioni diffuse soprattutto nel settore centro-meridionale, temperature minime in aumento le massime invece in diminuzione appunto per l'ingresso di questo fronte freddo la tendenza per i giorni successivi quindi per l'inizio della settimana sarà a favorire condizioni deboli di instabilità all'inizio della prossima settimana quindi avremo un tempo un po' instabile, forse anche qualche giornata di basse temperature vediamo i giornali, vi porto come sempre a far vedere inizialmente le due aperture dei quotidiani partiamo dalla pagina del Corriere Adriatico l'apertura è per il nuovo ospedale che è enorme e soffocherà il quartiere questo è il pensiero degli residenti di Muraglia a Pesaro che hanno paura sia per la viabilità ma anche per l'inquinamento che questa megastruttura porterà ma la fotonotizia è per il Premier Conte e il Ministro Toninelli che hanno fatto un blitz nel cantiere di Borgo Tufico sulla quadrilatero per annunciare una ripartenza di questo cantiere anch'esso bloccato da diverso tempo quindi tra pochi giorni un decreto per sbloccare e finire la direttissima del quadrilatero che mette in contatto appunto le marche con l'Umbria la apertura invece di Pesaro per il resto del Carlino è per la richiesta di condanna ai genitori di Francesco il bambino morto per otite di Caglia a 7 anni il PM chiede 3 mesi alla coppia di genitori ma la fotonotizia centropagina è nessuna speranza questo è il titolo molto eloquente su quello che sarà il destino dei lavoratori della PICA che li vedete riuniti nei loggiati del Comune insieme al Sindaco Ricci proprio per l'incontro anche con i verdici aziendali e fra un po' vedremo come è andata anzi ve la faccio vedere subito ecco non ci sono i margini bisogna chiudere l'amministratore dedicato di Terral non lascia speranze dopo l'incontro con il Sindaco col primo cittadino eccoli qua i vertici dell'azienda che hanno incontrato il primo cittadino sono Luca Succio l'amministratore delegato e a destra il direttore del personale Roberto Gualdo hanno incontrato il Sindaco per cercare una via d'uscita ma sono stati veramente salomonici bisogna chiudere dramma e lotta degli operai troppo giovani per smettere troppo vecchi per un altro lavoro a metà del guado il dramma dei cinquantenni come tanti che lo hanno affrontato c'è chi lo sa bene sono momenti veramente drammatici perché ti crolla tutto sotto i piedi intanto il Sindaco tenta la carta del Ministero inviando una lettera al Ministro però continuando nel Corriere Adriatico su quello che è il titolo di apertura eccolo qua l'incontro a Muraglia con i cittadini nuovo ospedale è abnorme il rione non reggerà l'impatto allarme e preoccupazione per i residenti che denunciano l'assenza di collegamenti e la debolezza degli interquartieri per un carico di smog che si annuncia proibitivo vogliono imporci un progetto a scatola chiusa mentre incombe il rischio di frane dal colle Ardizio queste le loro considerazioni ma poi anche area in via dell'Acquedotto countdown per gli espropi rimaniamo nelle pagine di Pesaro delibera per sbloccare il vincolo poi ripartirà anche il bocciodromo e anche il Corriere Adriatico tratta il momento dell'incontro con i vertici dell'azienda che vedete qui in una foto la pica chiude però non si discute l'azienda danneggia il gruppo queste le motivazioni portate dai vertici della Terral parole durissime portate in comune e quindi poca disponibilità sul fronte degli ammortizzatori quindi neanche quelli si potranno vedere all'orizzonte bimbo morto di Otite l'altra notizia nei giornali è questa ieri ad Ancona c'è stata l'udienza preliminare per i genitori sono stati chiesti dal PM tre mesi di carcere il GUP rinvia la sentenza al 6 di giugno riaggiornata la sentenza al 6 di giugno per le repliche data in cui si dovrà decidere anche per il rinvio a giudizio di Mecozzi Massimiliano Mecozzi ecco vedete qui in una foto il medico che ha curato il bambino solo con rimedi omeopatici quei genitori sono responsabili per il PM accusati di negligenza per la morte del piccolo Francesco il PM chiede tre mesi che cosa ha detto la madre abbiamo creduto nelle cure che ci consigliava il dottor Mecozzi queste le parole della madre operaio travolto dal tornio c'è cronaca nelle pagine sempre del resto del Carlino di Pesaro una tragedia sfiorata perché l'uomo l'operaio è riuscito a uscire quasi indenne da sotto la macchina che si è inclinata da un lato ha avuto uno schiacciamento al torace e una lussazione alla spalla però insomma per pochi centimetri ce l'ha fatta operaio travolto dal torno è uscito da solo da sotto la macchina però subito è arrivato il 118 a prestare le sue cure ancora qualcuno ha fatto il furbo siamo nelle pagine del Corriere Adriatico rimaniamo sempre a Pesaro edificio ex Suzuki nuova ordinanza per il proprietario la copertura è indecorosa andiamo nelle pagine di Fano nelle pagine di Fano partiamo appunto rimaniamo nel Corriere Adriatico si parla dei nodi della politica arriva la terza archiviazione per il sindaco Massimo Seri sull'esposto fatto dai 5 Stelle a suo tempo sui dirigenti a tempo con il contratto a tempo erano troppi c'è una quota che va rispettata però la PM ha detto non c'era abuso d'ufficio quindi terza archiviazione per il sindaco la motivazione è questa manca appunto per il PM l'elemento psicologico Seri non voleva favorire i titolari dei dei quattro contratti ma voleva il bene dell'efficienza della macchina organizzativa fanese quindi è rimasto sulla sua linea però per la guardia di finanza comunque la legge è stata violata ed è violata tuttora perché la quota è superata ancora nelle pagine del Corriere Adriatico l'altra notizia che ha catalizzato un po' l'attenzione della politica nella giornata di ieri è questa il consigliere comunale Davide Del Vecchio dell'Udc che vedete qui insieme a Pierino Cecchi resta fuori Del Vecchio dalle liste per la prossima tornata elettorale perché non c'è nessuna lista della coalizione di centrodestra disposta ad accoglierlo come candidato indipendente e lui commenta abbastanza chiaramente un comportamento poco onesto il candidato già sindaco del centrodestra nella seconda nell'altra tornata elettorale comunque comunica di aver subito ben tre rifiuti nessuno ha voluto accoglierlo nelle proprie liste nella pagina del resto del Carlino che riguarda Fano quindi rimaniamo a Fano ma cambiamo testata furbetti dei rifiuti l'occhio elettronico sta per arrivare arrivare le nuove telecamere intanto intanto quelle vecchie ne hanno stanati ben 261 isole ecologiche presto appunto nuove telecamere rimosse le 17 appunto rimosse anche 17 scusate tonnellate di amianto con le indagini degli ispettori ambientali l'obiettivo è più decoro e uno smaltimento più corretto rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino sempre di Fano che riporta anche qui la vicenda di Del Vecchio addio con rancore perché si sente ingannato prima dice lui mi avevano assicurato che si sarebbe trovata una casa per la mia candidatura ma poi così ho ricevuto tre rifiuti dopo che qualcuno aveva manifestato appunto di volermi accogliere e insomma lui non va a caccia di poltrone quindi non prenderà altre tessere e non cambia idea quasi tra lo serio e il facetto dice a meno che non mi chiami Silvio Berlusconi in persona per chiedermi di candidarmi c'è anche cronaca nella pagina del resto del carlino siamo a Monteporzio dove un marito padre padrone cinese di 45 anni da anni vessava e abusava della moglie e quindi è stato arrestato per maltrattamenti e anche per stupro l'altra pagina che però si affaccia all'interno della nostra vallata per il Corriere Adriatico andiamo a Valle Foglia siamo a Pian del Bruscolo le elezioni scaldano i motori della politica un weekend affollato di eventi politici vedete qui il candidato al sindaco Palmiro Ucchielli con David Sassoli e poi anche gli altri candidati la Carla Nicolini e Dorazio con Doglioni e Arrigoni della Lega insomma quindi un carosello di politici a Valle Foglia nella Val Metauro invece la solidarietà dei ristoratori per educare all'alimentazione che cosa succede l'associazione con Zanchetti dona 500 euro alla Croce Rossa per promuovere corsi per i bambini è il provento della vendita dei panettoni fatti in casa tanto pubblico anche per il tartuffo bianchetto dalla Valla Cesano invece picchia e violenta la moglie arrestato un imprenditore la notizia che vi abbiamo letto poco fa siamo a Monteporzio la donna è stata soccorsa dal 118 per un ulteriore carico di botte quasi strangolata e a quel punto sono intervenuti i carabinieri e tutto è stato svelato e il marito è stato arrestato a Urbino area vasta sanità petizione per la sede ducale i sindacati cosa dicono un tavolo tecnico con l'Asur facciamo questo tavolo tecnico la strategia è il passaggio amministrativo da Fano a Urbino che riduce i tempi di ricovero e rende disponibili più letti l'ultima pagina che vi faccio vedere sempre di Urbino è del resto del Carlino dove si parla di sport Urbino si candida per una tappa del Giro d'Italia che è già arrivato a Urbino vedete qui nella foto il precedente arrivo in città in piazza dopo la salitona del mercatale il comune quindi ha presentato ufficialmente la richiesta per l'edizione del prossimo anno per appunto il Giro d'Italia la tappa a Urbino questo è tutto per questa mattina grazie per essere stati in nostra compagnia un saluto carissimo anche a tutti coloro che ci seguono durante le repliche della mattinata e poi a 1.30 e anche salutiamo coloro che ci seguono online via web questo è il numero che potete utilizzare per entrare in contatto con la nostra redazione grazie e buona giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti